Oltre 600 prodotti, tutte di marche contraffatte, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Arezzo. Borse, portafogli, portachiavi, occhiali che avevano marchi di moda nazionali e internazionali il cui commerciante non è stato in grado di fornire documentazione attestante all'origine. Gli articoli esposti in vendita presentavano segni distintivi alterati, un packaging non conforme e imperfezioni di fabbricazione nella manifattura complessiva con particolare riferimento all'assenza di etichette e altri elementi distintivi. Le fiamme gialle hanno così sequestrato 200 articoli con marchi riconducibili a Gucci, Fendi, Louis Vuitton, The Bridge, Ryban e a deferire all'autorità giudiziaria il commerciante. Nel quadro poi di una più ampia intensificazione dei controlli del territorio e proprio in materia di sicurezza dei prodotti sono stati sequestrati altri 420 prodotti in violazione del codice del consumo, tutti i beni ritrovati in un esercizio commerciale gestito da un commerciante di nazionalità cinese.